Ciao a tutti, oggi sono qui con Ronny e faremo un caccia di caccia che in danesco è un caccia di caccia, ma in fine lo testa per noi, che è davvero un caccia di danesco. Quindi vediamo gli ingredienti che possiamo fare. Potremmo usare 125 grammi di farina, 125 grammi di zucchero, 70 grammi di zucchero, 2 occhi, 100 ml di milano, 1 teaspoon di olio, 0,5 teaspoon di salto e un pizzico di extract vanile. Ci sono gli ingredienti per il caccia, dopo vi mostrerò il topping. Ora la farina, la farina e il salto lo mettiamo separato e cominciamo con gli altri ingredienti. ... ... ... ... ... Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Ora lo mettiamo in l'ovno, preghiamolo a 190 C per 20 minuti. Per il topping useremo 125 gramme di butte, 50 ml di milano, 200 gramme di zucchero brano, se trovi un farina brum sarà meglio, questo è un zucchero danesco, ma non lo so se potete trovare. Aggiungiamo 100 gramme di farina brano e 100 gramme di farina brano. Ora lo mettiamo sul foglio, lo mischiamo molto bene e dopo lo mettiamo sul top del pane brano. Ora lo mettiamo ancora in l'ovno. Ora lo mettiamo a 210 C per 5 minuti. Ora lo mettiamo a 30 minuti e dopo lo mettiamo. Ora lo mettiamo a 40 gramme di farina brano. Grazie mille. Grazie mille. Ciao ciao. Bye. Ciao. 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 Ciao.